Giove, detto Tonante, in una scultura, risalente, al cento avanti Cristo circa, pronto a fulminare tutti i suoi nemici. O chi lo indispettiva con i suoi fulmini, in base a quello che ci dice la mitologia, ebbe numerosi figli, perché era solito tradire la moglie, grazie ai suoi travestimenti e trasformazioni. Degli uomini aveva sicuramente preso molti difetti. È una divinità antropomorfa, cioè che ha la forma di un essere umano. Giove, era nella mitologia romana, il re degli dèi, mentre in quella etrusca era il Diotinia. Musica, le quattro stagioni, di Antonio Vivaldi. L'autunno, progettazione e creazione, professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia, le informazioni e le immagini, sono tratte da Wikipedia, o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine